Ciao a tutti, adesso voglio parlare di un segnale di comunicazione non verbale che è il puntare il piede. Quando noi parliamo così, siamo in una conversazione eccetera, è importante capire dove stiamo puntando il piede oppure osservare dove punta il piede la persona che ci interessa, perché il piede è una parte del nostro corpo che indica dove vogliamo andare. Ovviamente è un piede che viene puntato in una direzione, soprattutto diciamo si può anche fare attenzione se il piede è destro, il piede è sinistro, il piede è destro è quello che indica la nostra parte istituzionale, il piede è sinistro, la parte trasgressiva, però puntare il piede significa dove vogliamo dirigerci, quindi una persona che anche se guarda un altro però punta il piede verso di noi, significa che vuole dirigersi verso di noi, significa che stiamo coinvolgendo, significa che abbiamo un buon potenziale di seduzione nei suoi confronti e quindi il semaforo è verde, se ci punta il piede sinistro significa che ha più esigenze di trasgressione, se punta il piede destro significa che ha più esigenze di istituzione. Però noi possiamo anche utilizzare questo segnale deliberatamente puntando noi il piede verso le persone e osservando che tipo di risposta ci danno, perché potrebbero dare una risposta di gradimento o una risposta di rifiuto e a seconda del tipo di risposta noi capiamo se diciamo se stiamo coinvolgendo, se stiamo andando nella direzione giusta o se stiamo andando nella direzione sbagliata, quindi è molto importante osservare proprio dove viene puntato il piede e spesso si notano delle distonie, cioè nel senso che la persona guarda da una parte, magari conversa con un altro ma il piede che ti indica che cosa veramente a livello profondo interessa a quella persona, questo è un segnale molto importante. Bene, per questo video è tutto, iscriviti al canale e seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ciao a tutti!